Il grande fratello ha appena ottenuto un nuovo prolungamento della trasmissione, e Signorini sta vivacizzando la dimora con confronti che affiorano dal recente passato dei partecipanti. Il prossimo lunedì, Alfonso ha annunciato nuovi ingressi, e quello che fa più scalpore è l'arrivo di Perlavatiero. Mirko Brunetti sta già trepidando perché ogni volta per lui sono colpi al fulmicotone. Ma cosa ne pensa Greta di questa inattesa aggiunta? Date un like e iscrivetevi al canale per scoprire tutti i dettagli dietro le quinte del grande fratello. Esatto, Perla potrebbe varcare la soglia della casa più famosa d'Italia. Ma aspettate, la reazione di Greta Rossetti è tutt'altro che prevedibile. Ma la domanda che sorge spontanea è, sarà ospite o concorrente? Vorreste vedere Perla accanto a Mirko dentro la casa? Scrivete dentro per farla entrare, scrivete fuori per vederla solo come ospite. La replica di Greta Rossetti non si è fatta attendere, ma sembra non essere troppo entusiasta dell'idea di condividere lo spazio con Perla. Greta Rossetti, la regina delle storie, ha risposto ai commenti dei fan sulla possibile partecipazione di Perla al grande fratello. Sto benissimo a casa mia. Lì dentro emergerebbe la parte arrogante del mio carattere che preferirei nascondere. Oh, Greta, sembra proprio che tu abbia lanciato una frecciatina in puro stile reality. Ma non è finita qui. Greta spiega che predilige rimanere una telespettatrice, perché, afferma con convinzione, dentro verrebbe fuori il suo lato arrogante. Sarà davvero così? Iscrivetevi al canale e mettete un like al video per seguire gli sviluppi di questa vicenda. Mirko Brunetti ha commentato le parole enigmatiche di Perla Vattiero su Instagram. Sono il bersaglio al centro e signorini, ci sta giocando. Che ne pensate? Credete che Greta riuscirà a starsene fuori, o come ha detto arriverà la tigre che mette in riga le gatte? Rimanete con noi e scopritelo nel prossimo contenuto.